Evangelo secondo Marco, capitolo 5, dal verso 21. Una storia, o più di una storia in questo testo, avvincenti, meravigliose, ma che ci parlano della preoccupazione di un padre per la propria famiglia. Dio sia lodato. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Iairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo «La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da dodici anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi, era piuttosto peggiorata. Gesù, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, dicendo «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse «Chi mi ha toccato le vesti?». I suoi discepoli gli dissero «Tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici «Chi mi ha toccato?». Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse «Figliuola, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo «Tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro?». Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga «Non temere, soltanto continua ad avere fede». «E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo, giunsero a casa del capo della sinagoga. Ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro «Perché fate tanto strepito e piangete?». «La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui, ma egli li mise tutti fuori. Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò là, dove era la bambina. E presala per la mano, le disse «Talita cum» che tradotto vuol dire «Ragazza, ti dico alzati». Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva dodici anni, e furono subito presi da grande stupore. Ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Chiniamo un attimo i nostri capi. Invito tutti ad aprire il cuore, a pregare un istante, a dire «Signore, manda questa parola stasera al mio cuore, nella mia casa, nella mia famiglia, Signore». Padre, ti rendiamo grazie con tutto il cuore, perché è sempre una gioia e un onore trovarci alla tua presenza. Siamo qui davanti a te, vogliamo pregarti di benedire ogni anima che si dispone a ricevere la tua benedetta e preziosa parola. Fa che questa parola stasera possa fare breccia in tutti coloro che siamo qui ad ascoltare, perché abbiamo sete e abbiamo fame della tua parola. Vogliamo essere raggiunti e benedetti. Grazie, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amén. Gloria al Signore. Dicevo la preoccupazione per una famiglia. Chiaro che se hai dei bambini ti preoccupi, ti preoccupi di soddisfare ogni necessità, ti preoccupi quindi della loro crescita, di ogni aspetto che riguarda i bambini. Forse la preoccupazione maggiore, un po' tutti ce l'abbiamo verso i piccoli, verso i bambini, perché hanno tanti bisogni, hanno bisogni fisici e quindi una particolare attenzione va apposta riguardo al corpo, quindi la salute, il fisico. Vi sono delle necessità che sono di tipo emotivo e quindi abbiamo bisogno di seguirli di modo che anche emotivamente possano crescere sani. Hanno delle necessità anche spirituali ed è necessario seguirle, inculcar loro quelle che sono le verità bibliche, i principi scritturali della parola del Signore. Vi sono anche necessità che sono di natura finanziarie, eccetera, ma che costituiscono delle preoccupazioni per i genitori. Se hai invece dei genitori anziani, anche lì ti preoccupi, ti preoccupi per la loro salute, ti preoccupi magari perché sono soli a casa e quindi hanno bisogno di una visita sempre più di frequente, ti occupi affinché possano ricevere le cure necessarie, ti occupi della loro salute e quant'altro possano avere di necessità. E così per quanto riguarda un po' tutti gli aspetti della famiglia. E molto spesso ci si sacrifica per il bene dei nostri cari. Vi sono molte rinunce che i genitori fanno in favore dei propri figliuoli e vi sono anche delle rinunce che i figli fanno verso i loro genitori, per accudirli, per seguirli, per curarli, per provvedere alle loro necessità. Il testo che abbiamo d'innanzi oggi ci parla di un padre estremamente preoccupato per una situazione familiare, estremamente preoccupato per sua figlia. Abbiamo letto qui nel testo che stava per morire. La mia bambina sta morendo. Questo padre corre, si getta ai piedi di Gesù, vi era una grande folla, non si vergogna della folla, non si vergogna del giudizio degli altri, anche perché era un personaggio importante, era uno dei capi della sinagoga, un uomo importante, un uomo molto conosciuto, aveva una dignità, era rispettato dagli altri. Non fu facile per quest'uomo, d'innanzi a tutta quella gente, a quella folla, gettarsi ai piedi di Gesù e presentare con urgenza il suo problema. leggiamo testualmente al verso 22, ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo, la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. E Gesù, dice la parola, andò con lui. Quindi il testo ci presenta un padre, dicevo, estremamente preoccupato per sua figlia, perché era gravemente ammalata, stava per morire. Lo vediamo gettarsi ai piedi di Gesù. Vi era tutta una folla, giunge anche quest'uomo, probabilmente perché aveva udito parlare di Gesù, dei miracoli che egli compiva, di questo messaggio che egli dava, un messaggio potente, autorevole, che raggiungeva i cuori e dava soddisfazione a chi lo ascoltava, ed eccolo presentarsi davanti al Signore e gettarsi addirittura a terra, ai piedi del Signore, un segno di umiliazione al cospetto del Signore. Perché? Perché aveva un peso nel suo cuore per la condizione fisica di sua figlia. Aveva una preoccupazione nel suo cuore perché vi era un problema familiare, vi era un problema nella sua casa, la sua figlia stava per morire. E chissà, forse stasera in questo luogo tu o tu che ci ascolti da casa o da qualunque altro luogo hai un peso, un peso nel tuo cuore per la tua casa, per la tua famiglia, per un tuo caro, una persona che ami in modo particolare. E può essere un figliuolo, può essere un genitore, può essere il marito, può essere la moglie, può essere qualcun altro. Fatto sta che è una persona cara e hai un peso nel tuo cuore, una preoccupazione, e la preoccupazione non è soltanto per le condizioni materiali, fisiche, ma le preoccupazioni, forse quelle più importanti, sono le preoccupazioni per la salute spirituale dei figliuoli. Siamo preoccupati e in ansia per i nostri cari che non hanno ancora conosciuto il Signore, che sono ancora lontani del Signore e possiamo affermare con certezza, come dice qui Airo, sta per morire, sta per morire e noi sappiamo che chi non ha conosciuto la grazia di Dio è morto nei falli e nei peccati. E la situazione è grave, la situazione è urgente e bisogna intervenire e come Airo, anche tu sai e noi sappiamo per parola di Dio ma anche per esperienza che l'unico che può mettere le mani è il Signore, l'unico che può intervenire è il Signore, qualunque sia il peso che è nel tuo cuore per la tua casa, per la tua famiglia, per tuo figlio, per tua figlia di natura fisica o di natura spirituale, bene, il Signore può intervenire. Cosa dice Gesù stasera circa il peso del tuo cuore? Cosa dice Gesù stasera circa la preoccupazione del tuo cuore? La parola del Signore è estremamente semplice, estremamente chiara, se andiamo un pochino avanti nei versetti quando fu detto a Iairo tua figlia è morta, ecco cosa dice Gesù circa la sua preoccupazione, non temere, soltanto continua ad avere fede. E la stessa parola la vogliamo prendere per noi, la stessa parola prendila come una risposta, una parola da parte di Dio per te stasera che stai ascoltando. Cosa ti dice quindi Gesù circa la tua preoccupazione e il peso del tuo cuore, non temere, soltanto continua ad avere fede. In sostanza egli ti dice credi, continua a credere, continua ad avere fiducia, anche contro le evidenze. Bene, voglio dire stasera alla luce di questo testo quando le difficoltà sopraggiungono e le difficoltà nelle case, nelle famiglie arrivano, sopraggiungono, a volte sono come dei torrenti che spazzano via ogni cosa, sono devastanti, producono quindi delle situazioni nelle famiglie veramente devastanti, difficili da affrontare e difficili da superare, ma quando le difficoltà arrivano nella tua casa, come arrivarono nella casa di Jairo? Era una famiglia felice, era un uomo in carriera, era uno dei capi della sinagoga, era un uomo onorato, era un uomo conosciuto da tutti e quindi anche la sua famiglia era onorata e conosciuta, era la famiglia di Jairo, anche nella famiglia di Jairo giunse la difficoltà, ma voglio dirti quando la difficoltà sopraggiunge credi nel Signore Gesù Cristo, abbi fede nel Signore Gesù Cristo, infatti quando giunse la difficoltà in casa di Jairo, rileggo, egli venne, si gettò ai suoi piedi e lo pregò con insistenza dicendo la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Cosa fece Jairo quando la difficoltà giunse nella sua casa? Egli credette, egli si rivolse al Signore, forse fino a quel momento non si era mai occupato delle cose di Dio e mai occupato di Gesù, probabilmente lo aveva visto come un possibile nemico, colui che scardinava quindi la credenza dei capi, sacerdoti, come era anche Jairo, uno dei capi della sinagoga, eppure quando la difficoltà sopraggiunse in casa sua egli credette nel Signore, cercò il Signore e appena incontrato il Signore si gettò ai suoi piedi. Gloria al Signore. ripeto, quando le difficoltà sopraggiungono credi con tutto il tuo cuore nel Signore. Che cosa fare? Umiliati, semplicemente, quello che abbiamo letto nel testo e lo vogliamo seguire con tutto il nostro cuore, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza. Questo gettarsi ai piedi vuol dire non solo riconoscere la sua autorità, la sua signoria, la sua maestà, ma gettarsi ai suoi piedi vuol dire anche umiliarsi dinnanzi al Signore, egli che era un personaggio importante, un uomo addirittura di religione, un uomo di fede, uno dei capi della sinagoga si getta ai piedi del Signore. Il termine gettarsi ai suoi piedi ci parla anche dell'urgenza, della necessità, del bisogno e quindi egli si getta ai piedi del Signore. Bene, voglio dirti stasera se hai un peso nel cuore, se hai una preoccupazione nel tuo cuore per qualcuno, umiliati e gettati ai piedi del Signore, inginocchiati davanti a Dio, invoca il nome del Signore, credi nel Signore Gesù Cristo, egli interverrà nella tua vita, condividi con Lui il tuo peso perché sai che non puoi portarlo, non puoi risolvere il tuo problema e anche la tua posizione non ti aiuta a risolvere il problema, hai bisogno di Gesù. Umiliati ai piedi di Gesù, ripeto, inginocchia davanti a Lui e condividi il tuo peso con Lui. E Pietro che scrivendo nella sua epistola, nella sua prima epistola dice umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi. Gloria al Signore umiliandovi sotto la potente mano di Dio. Ci credi che la mano di Dio è potente? Egli è l'onnipotente e l'unica mano capace di operare in maniera meravigliosa e in maniera risolutiva definitiva. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo e aggiunge pure gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi non egli avrà cura di voi getta la tua preoccupazione sul Signore ed egli all'istante ha cura di te prenderà su di sé la tua preoccupazione prenderà su di sé il carico del tuo cuore umiliati inginocchiati condividi il tuo peso con il Signore quando le difficoltà sopraggiungono e Jairo lo fece come abbiamo letto appena lo vide gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza Jairo che prega il Signore Jairo che si umilia davanti al Signore Jairo nel momento in cui la difficoltà giunge nella sua casa crede nel Signore e lo prega con insistenza perché era disperato il tempo scorreva la malattia era grave la malattia avanzava ed egli quindi corse con urgenza a cercare Gesù a gettarsi ai piedi del Signore e invocarlo a pregarlo con insistenza affinché venisse a mettere la sua mano e aveva certezza nel cuore che la sua figlia sarebbe stata salvata dal Signore ma le cose non vanno sempre come noi pensiamo come noi crediamo in un primo momento sembra tutto andare molto bene vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva Gesù andò con lui immaginiamo la gioia di Jairo Gesù che cammina insieme a lui verso casa vedeva già il problema risolto la situazione quindi in via di soluzione ma non soltanto le difficoltà giungono o sopraggiungono nella nostra casa nella nostra vita nelle nostre famiglie ma a volte giunge anche la devastazione mentre ci aspettiamo una soluzione mentre sembra che le cose siano in fase di soluzione ecco che improvvisamente si complicano e le complicazioni sopraggiungono innanzitutto perché Jairo stava camminando con Gesù ebbe fede in Gesù pregò Gesù si incamminò insieme a Gesù possiamo dire che era felice pensava ora Gesù è con me sto camminando insieme a Gesù e quindi egli avrà cura della mia vita egli risolverà i miei problemi stava camminando con Gesù quando una notizia giunse una notizia veramente devastante perché dicevo non soltanto la difficoltà sopraggiunge e abbiamo visto cosa fare quando sopraggiunge la difficoltà ma giunge anche la devastazione la devastazione ci parla di distruzione di demolizione ci parla di rovina la devastazione ci riporta alla mente alcuni passi della scrittura e soprattutto l'opera che il nemico compie nella vita degli uomini Gesù stesso ne parla e quando parla del nemico lo chiama il ladro il ladro non viene se non per rubare ammazzare e distruggere quindi non solo le difficoltà sopraggiungono nella nostra vita e facciamo bene a invocare il nome del Signore ma quando la devastazione giunge che cosa bisogna fare sì mentre Iairo stava camminando con Gesù ecco che udì una notizia devastante che riguardava sua figlia qualcuno disse tua figlia è morta non incomodare ancora il Maestro per quale ragione devi continuare ad incomodare il Maestro che cosa può fare in sostanza più il Maestro colui al quale ti sei rivolto chissà probabilmente sarà stato qualcuno che conosceva la sua attività conosceva il suo ruolo ti sei abbassato ti sei umiliato a cercare Gesù ti sei umiliato davanti a questa folla hai pregato il Signore ti sei affidato a Lui ecco che cosa può fare il Signore in questo caso per la tua vita e chissà forse da tempo fratello sorello amico stai pregando per una persona cara e la situazione sembra peggiorare sempre di più e la situazione sembra divenire addirittura devastante non solo difficoltosa ma questa difficoltà peggiora e la situazione diviene preoccupante e invece di edificare vedi demolire invece di sistemare le cose le vedi rovinare e la vita forse della persona che ama si sta figurando spiritualmente sempre di più perché è lontana dal Signore e la situazione veramente sembra divenire irrimediabilmente rovinata chissà forse una malattia che all'improvviso è divenuta una malattia terminale pensavi che vi fosse la soluzione ti hanno prospettato delle soluzioni poi invece le cose sono precipitate e quella malattia è diventata terminale una semplice difficoltà sopraggiunta che diventa una devastazione nella tua casa nei cuori eh gloria al Signore chissà forse ti aspettavi una soluzione nei problemi di relazione con tuo figlio tua figlia invece all'improvviso c'è stata una completa ribellione un rigetto completo e ti hanno lasciato o forse pensavi che fosse una semplice difficoltà e invece poi la persona che ami si è ritrovata forse legata da droghe o da abuso di alcol o da altre situazioni tragiche che ti hanno fatto soffrire ma ti voglio dire stasera anche se tutto diventa tenebre intorno a te e anche se la situazione dovesse divenire veramente devastante come accadde nella vita di Jairo continua a credere nel Signore Gesù Cristo la parola stasera è semplice non temere ma continua ad avere fede gloria al Signore la vuoi ricevere stasera questa parola nel tuo cuore quando la difficoltà sopraggiunge abbiamo visto quando la devastazione sopraggiunge ma andiamo oltre quando il dubbio comincia a giungere nella tua mente e nel tuo cuore abbiamo visto Jairo affidarsi a Gesù credere in Gesù rivolgersi a Gesù gettarsi ai piedi del Signore ebbe fede nel Signore cominciò a camminare insieme a Gesù Gesù andò con lui quest'uomo si affidò al Signore ma quando giunse questa notizia devastante la cosa più grave più pericolosa è che probabilmente la sua mente venne attaccata dal dubbio dal dubbio Dio si è lodato perché immediatamente egli interviene perché ci conosce e gli rivolge una parola e questa parola è semplice non temere soltanto continua ad avere fede Jairo continuò il suo cammino con il Signore Gesù gli aveva detto non temere soltanto continua ad avere fede può darsi la sua fede si riattivò si incoraggiò nel suo cuore e pensò che il Signore potesse intervenire o che forse la figlia non fosse morta ma quando giunsero a casa il dubbio si fece molto più pressante e molto più forte dai versetti 37 fino al 40 li voglio rileggere perdonatemi se li rileggo ecco e non permise a nessuno di accompagnarlo tranne che a Pietro Giacomo e Giovanni fratello di Giacomo giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una grande confusione gente che piangeva e urlava entrato disse loro perché fate tanto strepitio e piangete la bambina non è morta ma dorme ed essi ridevano di lui ma egli li mise tutti fuori prese con sé il padre la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò là dove era la bambina e presala per la mano le disse talità cumi che tradotto vuol dire ragazza ti dico alzati subito la ragazza si alzò e camminava perché aveva dodici anni e furono subito presi da grande stupore direte voi dov'è il dubbio quando giunse la casa i presenti facevano grande confusione grande confusione abbiamo letto gente che piangeva e urlava e Gesù disse la bambina non è morta ma dorme ed ecco che cominciarono a ridere di lui sì ed essi ridevano di lui perché conoscevano molto bene la bambina probabilmente erano parenti probabilmente erano i vicini di casa era una bambina di dodici anni quindi conoscevano molto bene la bambina probabilmente avevano seguito la malattia della bambina avevano visto probabilmente il papà partire a cercare soccorso a cercare aiuto a Gesù conoscevano la bambina e sapevano che era morta saranno stati probabilmente di quelli che avevano aiutato la mamma a sistemarla a vestirla a metterla sul letto e quindi erano sicuri che la bambina era morta e nel modo di ridere di Gesù per le parole che Gesù disse in realtà non facevano altro che seminare il dubbio nella mente di Eiro sulla fedeltà di Gesù e sulla sua potenza quando giunge il dubbio essi dubitarono della parola del Signore e tentarono di seminare il dubbio anche nella mente di Eiro bene quando vedi una persona cara per la quale hai un peso hai una preoccupazione e la vedi peggiorare il dubbio che Gesù non possa o non voglia rispondere alla tua preghiera può giungere siamo siamo fatti di carne siamo tutti quanti deboli e il dubbio può raggiungere ciascuno di noi nessuno di noi può alzare la mano e dire non ho mai dubitato quando la situazione si fa devastante quando le evidenze sono incontrovertibili sono chiare quando le voci e le testimonianze attorno sono assolutamente chiare e morte quando la gente ride anche della tua fede allora il dubbio che Gesù non possa ripeto o non voglia rispondere alla tua preghiera può giungere quando stai pregando e quando la risposta sembra non arrivare o addirittura la risposta sembra impossibile quindi puoi perdere la speranza puoi perdere la fiducia puoi dubitare ma Gesù ancora una volta ti dice stasera non temere soltanto continua ad avere fede continua a credere non dimenticare quindi stasera chi è colui che sta al tuo fianco non dimenticare di aver iniziato a camminare insieme a Gesù o meglio Gesù ha iniziato a camminare insieme a te Jairo credette nel Signore si gettò ai piedi del Signore e levò la sua preghiera al Signore e il Signore andò con lui non dimenticare chi è colui che viene con te non dimenticare quanto è grande colui che cammina con te non dimenticare che Egli è il Re dei Re ed è il Signore dei Signori non dimenticare che Egli è l'Onnipotente e sta camminando insieme a te al tuo fianco non dimenticare che Egli ha liberato i posseduti dal demonio non dimenticare che Egli ha guarito i paralitici non dimenticare che Egli ha sanato all'istante i lebrosi non dimenticare che Egli ha aperto gli occhi ai ciechi non dimenticare che Egli ha aperto una via in mezzo al mare non dimenticare che Egli ha calmato la tempesta non dimenticare che Egli ha provveduto il cibo in mezzo al deserto per migliaia di persone non dimenticare che Egli è il Signore non lasciarti attaccare dal dubbio gloria al Signore quindi abbiamo visto cosa dice Gesù circa la tua preoccupazione il tuo peso e la parola di Gesù è non temere soltanto continua a credere anche se la situazione diviene devastante anche se la morte sopraggiunge Egli è il Signore della vita io sono la resurrezione e la vita dice il Signore Egli ha il potere Egli ha vinto la morte sul legno della croce Egli apparteniamo Egli apparteremo per sempre per l'eternità ma voglio dirti e concludo cosa fa Gesù non solo cosa ti dice Gesù ma cosa fa Gesù circa il tuo peso ripercorrendo i versetti chiave che abbiamo seguito in questo testo innanzitutto Egli ascolta la tua preghiera Iairo si gettò ai piedi del Signore e lo pregò con insistenza e il Signore ascolta la preghiera notate Egli ascoltò subito ma non agì subito venne interrotto mentre stavano recandosi a casa di Iairo una donna si presentò una donna con un flusso di sangue una malattia grave anche questa ebbe fede nel Signore riuscì ad arrivare a lui toccò la sua veste in quell'istante sentì di essere stata guarita sanata di questo flusso di questa emorragia e intercorse un dialogo tra lei e Gesù e immaginate Iairo che aveva pregato con insistenza il Signore Egli ascoltò la sua preghiera ma non corse subito a casa si fermò ad aiutare quella donna venne interrotto ma voglio dire a te e voglio dire anche a me stasera Egli ascolta la tua preghiera e se anche dovesse esserci un ritardo e se anche dovesse esserci un'interruzione stai sereno Egli ha udito ha ascoltato la tua preghiera Egli ha già udito il peso del tuo cuore gloria a Dio ora il peso e la preoccupazione che era sul tuo cuore è su di Lui i tempi adesso non li stabilisci tu non li stabilisco io ma li stabilisce il Signore a me basta sapere che Egli ha ascoltato la mia preghiera a me basta sapere che il peso del mio cuore l'ho condiviso con Lui l'ho gettato ai Suoi piedi oggi Egli lo ha preso su di sé che cosa debbo fare debbo soltanto attendere fiducioso continuare a camminare insieme a Gesù anche se la voce giungerà e dirà che la situazione ormai è irrimediabilmente perduta anche se la notizia è devastante continuo a rimanere sereno perché Gesù ha ascoltato la tua preghiera e ha preso su di sé il tuo peso cosa fa Gesù circa il tuo peso ascolta la tua preghiera due Egli calma le tue paure come disse Airo lo dice a te Egli calma le tue paure non temere solo continua ad avere fede continua a credere Dio conosce le nostre paure conosce le nostre preoccupazioni sa come siamo fatti noi non ci conosciamo ma Egli è l'unico che scruta il nostro cuore e scruta i nostri pensieri nulla è nascosto dinnanzi al Signore Egli non solo è colui che ascolta la tua preghiera ma Egli è colui che calma le tue paure vogliamo dire gloria a Dio insieme e infine Egli rimuove i tuoi dubbi Egli spazza via le tue paure le tue preoccupazioni perché leggiamo dal versetto 40 essi ridevano di Lui ma Egli li mise tutti fuori prese con sé il padre e la madre la famiglia unita insieme e quelli che erano con Lui Pietro Giacomo e Giovanni uomini che seguivano Gesù uomini di fede entrò là dove era la bambina presala per la mano le disse talitacum che tradotta vuol dire ragazza io te lo dico alzati subito la ragazza si alzò e cominciò a camminare perché aveva 12 anni e furono presi tutti quanti da stupore da meraviglia gloria a Dio bene digli proprio stasera digli proprio stasera tu che ti medesimi in questa parola tu che hai una preoccupazione nel cuore tu che hai un peso nel cuore dia al Signore proprio ora in questo momento dovunque ti trovi Signore prendi tu nella tua mano la situazione essi si ridevano di Lui ma Egli li mise fuori tutti prese con sé il padre la madre della bambina quelli che erano con Lui entrò nella sala dove era la bambina presala per la mano le disse talità cum ragazza alzati afferrò con la sua mano quella ragazza dal regno della morte e la portò nel regno della vita come ha afferrato ciascuno di noi dal regno delle tenebre e ci ha messi nella sua meravigliosa luce la scrittura ci ricorda che eravamo morti nei falli e nei peccati ma il Signore ci ha vivificati ci ha risuscitati ha fatto di noi delle nuove creature ci ha afferrati con la sua mano ecco perché dico in questo momento digli con fede Signore prendi tu nella tua mano la situazione è significativo che Iairo e sua moglie insieme a Gesù e Pietro Giacomo e Giovanni entrarono in quella sala i genitori di pari sentimento anche la moglie probabilmente la moglie di Iairo aveva udito per maggior tempo quelle voci negative che demolivano la sua fede ma quando giunse il marito probabilmente disse moglie non dare ascolto a queste voci a queste parole anche agli amici ai parenti coloro che sono certi perché Gesù per strada mi ha detto non temere soltanto abbi fede abbiamo fede nel Signore marito e moglie unitevi insieme inginocchiatevi davanti al Signore invocate il nome del Signore egli interverrà egli farà meraviglie credete con tutto il cuore ma siate di pari sentimento dove due o tre sono riuniti il Signore dice io sono presente in mezzo ad essi se due si accordano a chiedere qualcosa il Signore la concede e qui vediamo moglie e marito insieme a Gesù in quella sala insieme ai credenti ai fratelli che invocano il nome del Signore Gesù che stende la sua mano e la ragazza viene salvata forse hai una persona cara che non è nata di nuovo ancora e stai pregando per la sua salvezza prima che muoia prima che sia grave e tu sai che la situazione sta diventando grave e forse hai appunto una persona cara che non è ancora stata rigenerata o forse si è allontanata dal Signore o forse hai sofferto e hai trascorso delle notti insonne pensando ai problemi al peso del tuo cuore alla situazione difficile della tua casa e hai perso anche il sonno di notte forse hai versato molte lacrime tante lacrime dinnanzi al Signore per una situazione un peso del tuo cuore forse hai elevato molte preghiere al Signore o forse hai perduto anche la speranza stasera ti incoraggio attraverso la parola del Signore non temere soltanto continua ad avere fede chiniamo insieme i nostri capi al cospetto del Signore grazie